Mauro Petrucci, parliamo di medicina del territorio in provincia di Chieti, ma il discorso potrebbe essere steso anche a tutto l'Abruzzo. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che un fenomeno che avevamo previsto e che si sarebbe dovuto verificare nei prossimi anni a causa del Covid ha avuto una repentina anticipazione. L'assenza di una programmazione dell'accesso a medicina e dell'accesso alle scuole di specializzazione e di formazione per la medicina generale ha portato a una situazione di carenza di personale medico. Questa carenza è stata, come dicevo, accentuata e accelerata di almeno due anni perché molti colleghi che avevano proiettato la loro pensione a 70 anni, al limite massimo, la stanno anticipando almeno di un paio di anni, a 68 anni. Quindi questo sta determinando una notevole situazione che molti comuni, molte postazioni di guardia medica si trovano ad essere sguarnite. Assumendo, possiamo dire che sono tanti i comuni anche nella provincia di Chieti in carenza di organico, se vuole può darci qualche dato. E poi, tutto sommato, i soldi sono anche arrivati, però sono stati quasi tutti convogliati verso gli ospedali perché c'è stata la pandemia. La pandemia del Covid ha cambiato completamente nel giro di pochi mesi la situazione assistenziale. Le risorse sono arrivate, sono state concentrate forse anche giustamente all'inizio sugli ospedali, perché dovevano far fronte all'emergenza dei ricoveri dei pazienti gravi. Però a fronte della percentuale di pazienti ricoverati, il grosso numero dei malati di Covid sono rimasti a casa e nel territorio e sono stati a carico dei medici di medicina generale, che si sono trovati ad avere un carico di lavoro enorme, da soli, senza personale, questo perché non c'è stata un'attenzione a creare una rete di medicina di gruppo, non si è pensato a dotare di personale di studio i medici e quindi il medico è rimasto solo. Quindi noi da tempo stiamo proponendo e stiamo dicendo che abbiamo bisogno di medicina di gruppo, ma soprattutto abbiamo bisogno di personale di studio perché è improponibile essere efficaci ed essere all'altezza della situazione da soli. Quasi il 50% delle sedi non sono state potute essere coperte da nuovi. Parlo di comuni importanti, di comuni grandi come Lanciano, Francavilla, Torrevecchia Tiatina, Ripa, Tollo, cioè realtà che una volta erano molto appetibili da parte dei colleghi e che oggi purtroppo causa carenza non vengono praticamente ricoperti e sostituiti i medici andati in pensione.